Tutti, nuovamente, per chi non avesse visto la rassegna stampa sportiva, il Piemonte Maglianera per molti contagi insieme alla Lombardia cambia Task Force e Cilio ammette gli errori, invece Fontana e Company restano infallibili. Dal 4 maggio nuove chiusure se ricrescono, contagio e ricoveri, clausole e salvaguardia per riaprire, zona rossa se si superano. Media parte, Macron parlò di cancellazione, poi la retromarcia, Africa, la pandemia del debito estero col tirchio occidente. L'intervista alla Sudession Zeuting su Eurobond, messa il 20 giovedì, Uwe Conte pensa al veto, che ha paura del 25 aprile, rischio virus, trivulso col protocollo sbagliato, obbligatorio per legge al 2001, storia di copertina all'altro fronte, medici militari, medici militari e corona, in guerra ma senza armi, infermieri e dottori in divisa, siamo stati catapultati negli ospedali senza protezioni né preparazione, rischi anche per i soldati in servizio per strada che dormono ammassati nelle camerate. All'interno a Montenegro il Covid scuote la chiesa, basta egoismi nell'UE, regioni affari, sanità privata, col centro-destra fa ancora festa, università, lezione telematica per chi ha da sempre spiegato abbraccio, timori e scoperti di un prof online. Brute notizie, c'è l'infodemia, ecco il contagio delle fake news, il giornale a 90 gradi, il coronavirus muore, la cattiveria, e va bene. Si riesce anche a scherzare. Avvoltoi sull'Italia, siamo diventati una preda, allarme Copasir, c'è chi finanzia lo shopping straniero delle nostre società. Il Movimento 5 Stelle spinge per sottometterci alla Cina e Pechino fa concorrenza sleale. Sinistri i grillini preparano il golpe in Lombardia. Ennesimo delirio chic di Fuxas, vietare le case sotto i 60 metri quadri, la sparata dell'Archistar. Nessun pateracchio con Conte Company, un balletto senza risposta e date certe, non giocate con le aziende, serve un piano di riapertura. La sanatoria dei clandestini, ultimo sfregio alla legalità, allarme migrazione. Fai la spesa e stai zitto, siamo alla folia statalista, il virus dei governatori. Basta Liti, il calcio deve risollevare il paese. Intervista con Adriano Gagliani, serie A in campo da giugno. Le foto di Conorba si fanno con il telefonino, ecco le cinque virali. I segreti del boom, così si riparte, arriva la polizia che batte il Covid. Silvio, aiutami tu, Conte ha la canna del gas. Il premier sa che sarà travolto da un'apocalisse economica e supplica Berlusconi di soccorrerlo. Ma è una mossa disperata, tutti ormai stanno lavorando per sostituirlo. Ex ministra rabbiosa, la verità sull'Allezzi troppo scarsa, persino per i grillini. Parla la Bernardini da pace, un sacco di gente pronta a divorziare. L'avvocato matrimonialista rivela che la quarantena ha spaccato molte coppie. Cara Italia, Lombardia va rispettata. Giuro a Gallera, è da Milano che abbiamo salvato il sud. E poi non è il denaro per fare i tamponi. Zingaretti, butta soldi, mascherini e fantasma. Il virus dell'invidia è contagioso, quelli che odiano la ricchezza altrui. Aveva un locale dei presi di Palinuro, in altresa di ripartire. Noto ristoratore si spara. Aiuto. In osseria, Plessiglass, tra un travolo e l'altro, torneranno di moda gli inviti a casa. E mi sa proprio che cambieranno veramente le mode e verrà demolita. Ci saranno parecchi suicidi, secondo me, altro che giocare sulla pelle della gente. Conte, il messo è una cattiva fama in Italia, ricoveri in calo, festa al Niguarda per la disattivazione. E la terapia intensiva. Ecco le regole per riaprire. Le aziende dovranno autocertificarsi. Limiti perché non ha l'app. L'ITA è Lazio Lombardia. Le nomine e i metodi antichi. Il valore del mondo aperto. Prof fuori sede e aule mancanti. Le classi e i nodi. Uffici, scuole e negozi. Milano avrà nuovi orari. L'autonomia non si tocca. Chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato con le chiusure. I ventilatori per ospedali. Chiesti con un mese in ritardo. Un piano Europa ora. Ce la faremo? Eh boh, bella domanda. La Repubblica. Bilancio di 60 giorni. Due regioni ancora in crisi. Ma in 16 il contagio frena. In 16. Sono tante. L'inituto di sanità. Stiamo meglio. Virus. Quanto manca all'alba? Ah o meglio. Non è una domanda. Ce lo dice. Il ministro Patuanelli. Si può pensare di riaprire per singoli territori. Buongiorno. Nel nuovo decreto altri aiuti al lavoro. Europa. Bond per mille miliardi. Le libertà sospese. La liberazione. La convenienza dei garantisti. Parmitano. La mia terra malata. Impastare e informare. La cura dell'anima. Le basi incerte del federalismo. Tanti temi. Tempo per leggere. C'è tanto. Quasi tutti ne hanno. Modulo scandaloso per avere i soldi. Vuoi 25 mila euro? Discolpati. Il mini prestito del governo arriva in grandissimo ritardo. È a ben 18 di condizioni. La garanzia data dallo Stato vale solo per gli studi bancari. Ma le imprese possono fallire. L'ennesima bugia dell'esecutivo che mente pure sull'app spia. Non sarà né anonima né libera. Conto i Berlusconi. C'è di bunga bunga. Oggi Zingaretti ha ascoltato sulle mascherine fantasma. Sull'RSA ora è guerra aperta. Fontana, fatta come in Lazio. Pupo il magistrato. Maffare l'amore vale per uscire di casa. Troppi 45 giorni senza. Quanto ha ragione. Ripescato il cadavere della maestra scomparsa. Il tever ha restituito dopo 15 giorni il corpo della donna. Resta il giallo. Non ha da accendere. Anziano finito a coltellate. Aggressione a Montessacro. Il Stato Raffaele replica le accuse. La regione c'è impedito di fittuare i tamponi. Litigio continuo. Mezza Italia riparte tra i dubbi del Premier. Ieri 433 vittime carano ancora il contagio dei pazienti di terapia intensiva. I scienziati spingono Palazzo Chigi alla prudenza. Tessile e Amargo, come mi risulta nella storia, non sono intervenuti gli scienziati. Non ci sia stato mai niente di buono. Tessile, moda e meccanica. Sono migliaia le aziende che anticipano il ritorno al lavoro. Molti paesi europei riducono i divieti, i pantuanelli. Pensiamo a riaperture regionali. Negozi, bar e ristoranti chiusi fino al 18 maggio. Slitta il decreto contro la crisi. L'esecutivo paralizzato dai dilemmi. Meloni, 5 Stelle, spaccato per questo conte, corteggia Berlusconi. No, il Movimento 5 Stelle, spaccato per questo conte, corteggia Berlusconi. Quegli anziani che nessuno va più a visitare. Voora rinasce, noi salvati dai tamponi. Viaggio in treno tra checkpoint e controlli medici. Il bisogno del privato nella fase 2. Casa dei Berti e Guensi, così il liscio diventa rock. Piero Pelù, da neosposo. Cucino e faccio musica. Se ho fatto in tempo, vi ricordo che potete sentire anche l'intervista oggi su GPONR di Gigi Camedda. Anche lui si dedica un po' a tutte le cose di casa. Regole severe per le riaperture. Perché queste sono state leggere. Allora, l'intervista da Alberto Salvati, noi in Antartine, così isolati che ci studiano. La malattoria di Lady Gaga, l'OMS in cassa di 28 milioni. Le Coppe, il Champions della Europa Liga d'Agosto, la UEFA convoca a tutti. Diciamo, moda, auto e cantieri. L'ipotesi di sblocco dal 27. Con maschere, distanza sociale e termoscanner. Governatori, salta la tregua. L'Italia tra Fontana e Zingaretti sull'RSA. Zahia, il Sud contro il Nord. Ripensare le regioni dopo la sbandata federalista. Direi proprio di sì. Le teniste e Liguli. Il video del match è da due terrazzi fra il giro del mondo. Io per la Sardegna comincerei a pensare anche a un'autonomia ancora più forte, visto le distanze che è necessario creare anche per evitare la pandemia. Task force call out. Test psicologici su 150.000 per la ripartenza. App volontaria. Previsti più limiti per chi non ce l'ha. Controlla distanza. Bonus figli e assegno colfi. Il decreto a maggio. Buonanotte. Il progetto di maxi emissioni condivise. Conti attacca. Italia lascia da sola. Si tratta sul MES senza condizioni. Le previsioni del tesoro per il DEF. Nel 2021 max rimbalzo dell'economia. Deficit al 4%. Aumenti IVA disinnescati. Se pensano di affrontare il tema solo con gli aumenti IVA disinnescati, lasciando le cose così, già salviamo tutto. L'azienda sanitaria pubblica nel mirino di PM. Molti altri vulsi. Controlli mancati. Trump. La Cina pagherà per il virus. I sospetti sulla diffusione occidentale dei laboratori. Milano. Colpo di fucile nel sonno. Mi ha lasciato. L'ho uccisa. Il dramma della quarantena. Gli ultimi due. Oggi abbiamo ben cinque giornali che non escono. Il foglio. L'arte che verrà. Saranno ancora possibili il cinema, il teatro, la letteratura, la musica dopo il Covid? Quanto ha tolto e quanto potrebbe dare il vuoto del virus agli artisti? Le nuove domande, le evasioni possibili e il mondo che non ci immaginiamo. Un'indagine tra chi scrive, suona e compone. Stiamo facendo noi abitualmente in Gipione con tanti artisti della nostra Sardegna. La verità. L'ultimo dei giornali che rassegniamo. Allora. Braccio di ferro sulle riaperture. Zaia è sud contro il nord. Zingaretti si è perduto. Mascherine per 35 milioni. Non arriva la fornitura affidata alla ministeriosa società la cui holding assedi una modesta abitazione nell'edificio di un ex relatorio a Frascati. Il portavoce del governatore in imbarazzo. Abbiamo una polizza. Fontana. Attacco politico sull'RSA. La delibera del Lazio è uguale alla mia. Il capo del MES conferma. Capio pronto. In un'intervista il corriere Reglin ammette. Finita l'emergenza le regole vanno rispettate. Il rigore è solo per noi. Tutti i regali che si fanno a Germania e a Olanda grazie a lui. Il ministro Bellanova mandi nei campi i nostri giovani. Bellaccio diventa l'inno del nuovo regime. Dalle monopoliste della liberazione al cantone della segregazione. Il dizionario di Silvana travestito a legge fiabe ai bambini. Ci di peggio? E va bene. Anche oggi di tutto abbiamo letto. Ci siamo fatti un quadro omogeneo dell'Italia. Tutti uniti e compatti. Tutti della stessa opinione. Uniti per ripartire. Buona giornata a tutti. Riflettete. Meditate, gente. Meditate, diceva il buon albore. Ciao a tutti.